Gli atleti e le società appartenenti al mondo del ciclismo provenienti da tutta la regione si sono incontrati sabato 21 gennaio 2017 a Caltanissette in occasione dell'Oscar del ciclismo, un evento organizzato dal Comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, svoltosi all'interno del centro polivalente Michele Abbate, durante il quale sono stati premiati coloro che si sono distinti nel corso della stagione 2016. Come ogni anno è consuetudine che il Comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana premia gli atleti che si sono distinti maggiormente nella stagione precedente. Quest'oggi saremo qui a premiare tutti i vincitori delle specialità di fuoristrada di Coppa Sicilia, sia Marathon che XCC, in più premeremo tutti i ragazzi della strada, le categorie agonistiche e inoltre ci saranno premiati tutti i giovanissimi che si sono distinti nel 2016, al di là che abbiano fatto strada o fuoristrada. Noi ci siamo insediati da pochi giorni, siamo in fase di programmazione di calendari e quello che sarà la vera e propria attività della Federazione. Stamattina abbiamo iniziato già con i corsi di aggiornamento per i direttori sportivi, così permetteremo alle società di affiliare e tesserare i corridori e, se tutto va bene, il 2019 partiremo con la stagione agonistica che sarà una gara di ciclocross in provincia di Palermo. La Federazione Ciclistica Regionale ancora una volta sceglie Caltanissetta perché è proprio logisticamente al centro della nostra isola ed è più facile per tutti raggiungerla. Questo è un premio importante che ogni società e ogni ciclista che si è distinto quest'anno, quest'anno passato, il 2016, viene riconosciuto come protagonista di una stagione piena e carica di impegni. Ripeto, per me è molto importante che ancora una volta questo sito, che è proprio la sala Michele Abbate, che venga a essere ritenuta centrale nel contesto vigiliare. L'importanza di questo evento di oggi è il fatto che dopo le elezioni regionali, che hanno visto eleggere i nuovi vertici regionali, la Federazione Ciclismo si incontra a Caltanissetta e quindi per noi Nisseni è un motivo di banto perché grazie a questa posizione centrale ospitiamo tantissimi eventi anche di natura sportiva. Quindi oggi, come delegato provinciale Coni, sono stato molto contento di raccogliere l'invito del vicepresidente regionale Rivituso e assicurare la mia presenza per questa premiazione, in cui verranno appunto consegnati riconoscimenti a quanti sono messi in luce durante la scorsa stagione sportiva.